Dopo la crisi che Lee ha visti lontani per un periodo, una coppia di uomini e donne si è sposata e ha avuto una figlia Ecco chi sono. Molte coppie di uomini e donne, una volta usciti dal programma, provano a stare insieme ma senza successo, lasciandosi dopo poche settimane o pochi mesi Altre coppie, invece, sperimentano amori felici e duraturi, sposandosi, vivendo insieme e avendo anche dei figli Una delle coppie più amate del programma condotto da Maria De Filippi, dopo una crisi che Lee ha visti lontani per un periodo, sono convolati a nozze e hanno anche avuto una figlia Ecco chi sono. La coppia di uomini e donne che si è sposata e ha avuto una figlia dopo la crisi Qualche anno fa da uomini e donne si è formata una coppia molto amata e seguita su social Punto si tratta dell'extronista di uomini e donne Sara Sheehy e del suo corteggiatore, da lei scelto, Sonny Di Meo I due stanno insieme dal 2020 ma, durante la loro storia, hanno vissuto una crisi che Lee ha tenuti distanti A circa un anno dalla scelta, a causa di alcune incomprensioni e litigi, ma anche dell'eccessiva gelosia di lui, secondo quanto dichiarato da Sara, i due sono stati separati per qualche mese, per tornare insieme a marzo del 2021 A dicembre del 2022 avevano ufficializzato di nuovo la loro separazione ma, dopo la crisi, è tornato il sereno fra i due Infatti il 5 marzo 2023 si sono sposati in Marocco e un mese dopo hanno annunciato l'attesa del loro primo figlio Il 14 settembre 2023 è nata la piccola Nora Belle, una figlia molto amata dai due che non mancano di postare dolci contenuti con lei su Instagram Dopo tanti alti e bassi, finalmente la coppia sembra aver trovato il suo equilibrio Ora sono felici insieme e, anche chi non ha mai creduto molto nella coppia, ora deve ricredersi Si sono sposati e hanno una dolcissima bambina insieme Anche l'esperto di gossip a Medeo Venza ha fatto i complimenti ai due Infatti su Instagram ha condiviso una foto della coppia che porta a passeggio la piccola nel carrozzino scrivendo «Bellissimi sare e sonni! In pochi ci avrebbero scommesso! Invece l'arrivo della piccola li ha uniti più che mai! Conducono una vita normalissima senza troppi grilli per la testa! Oltre a lui tanti sono i sostenitori della coppia che sono contenti di vederli felici e innamorati come non mai!